Ben ritrovati amici i telespettatori non è il tradizionale teleobiettivo la trasmissione che ci ha accompagnato per tutta la stagione scorsa nell'approfondire temi di attualità è una sorta di anteprima una sorta di appuntamento per darci un appuntamento anche perché non è neanche questo l'orario consueto in cui andrà in onda anche per la prossima stagione teleobiettivo che ritroveremo ogni giovedì mattina alle 10.30 in questa anteprima ci tiene compagnia anche il nostro Fran Nicola Monopole che è responsabile del settore comunicazione dei frati minori cappuccini della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio bentornato fra noi anche se è casa tua questa grazie Stefano buona domenica a tutti voi che siete a casa allora vogliamo anzitutto dare uno sguardo al passato prima di guardare un po' al futuro e quindi vogliamo con voi guardare alcuni dei temi più significativi che abbiamo toccato nella scorsa stagione quando ci fu tra le altre cose anche un terribile naufragio a largo delle coste calabresi nel quale ci furono molte vittime anche bambini e noi in quella circostanza abbiamo approfittato della circostanza per mettere a fuoco con il nostro teleobiettivo proprio il dramma che vivono queste persone che lasciano la loro terra e rischiano la vita nel mare che talvolta viene solcato da cosiddette carrette cioè da navi inadeguate e abbiamo avuto nostro ospite in studio proprio un giovane che adesso vive a San Giovanni Rotondo che ha fatto una esperienza drammatica simile a quella avvenuta appunto a largo delle coste calabresi un giovane che peraltro si è visto morire dei bambini sotto i suoi occhi e che è riuscito a salvare lui stesso una bambina ascoltiamo dopo questa ennesima duplice tragedia del mare vogliamo cercare di capire capire perché ancora assistiamo a scene del genere perché ancora siamo costretti a piangere morti a cercare dispersi che di giorno in giorno di ora in ora diventano sempre meno facili da trovare per questo abbiamo qui con noi in studio Fabrice Ndi che è un giovane originario del Camerun che vive a San Giovanni Rotondo già da tempo è titolare di permesso di soggiorno elettronico per 5 anni in protezione sussidiaria e che è stato protagonista proprio mentre cercava di raggiungere le coste italiane di un naufragio anche lui nel 2022 quindi due anni fa un naufragio nel quale ha salvato una bambina e quindi ha vissuto questa esperienza la prima domanda che voglio farti voi prima di partire sapevate che le imbarcazioni che verrebbero portate in Italia non erano sicure sapevate di rischiare la vita? Sì noi sappiamo è una decisione che è difficile a prendere ma la vita da noi è difficile per questo che prendiamo questa decisione così quindi nel tuo paese e probabilmente anche nei paesi degli altri che come te decidono di lasciare casa famiglia affetti ci sono condizioni di vita e addirittura rischi di morte maggiori a quelli di una traversata su imbarcazioni inadeguate sì insieme a te sono venute altre persone del tuo nucleo familiare amici parenti no sono venuto con gli amici ma non le famiglie amici della stessa paese e insieme a te come è accaduto nella recente tragedia di due giorni fa di tre giorni fa a largo delle coste calabrese e siciliane c'erano dei bambini erano dei bambini accompagnati da genitori o bambini che i genitori affidano a queste cosiddette carrette del mare nella speranza di dare almeno a loro un futuro migliore non sapevi se erano accompagnati da genitori no io sapevo che lei stava con genitori la bambina che hai salvato tu stava con genitori mamma e papà e c'erano altri bambini oltre a quella che tu hai salvato sì c'erano altri bambini prima è morto un bambino un altro bambino è morto sotto i tuoi occhi sì è morto così ho lasciato sul mare poi ho preso la bambina e quella invece si è riuscita a salvarla e la bambina è ancora viva abbiamo ascoltato questa drammatica testimonianza che spero Franicola possa aprire gli occhi di tanti che guardano questi immigrati non come una risorsa perché tale lo è anche perché in certe attività è difficile trovare mano d'opera e soltanto persone che arrivano dall'estero magari ricoprono determinati ruoli e svolgono determinati servizi ma poi è gente che vive da situazioni viene da situazioni drammatiche vive in una condizione di disperazione devono scegliere se morire in patria o rischiare di morire nelle traversate esattamente Stefano in effetti questa scheggia potremmo dire della vita di un giovane che abbiamo avuto la possibilità di avere qui in studio qualche tempo fa che tu hai avuto la possibilità di incontrare ci dà la possibilità di cogliere ecco in questa vicenda che sembra piccola in qualche modo ecco riflette questa è una problematica immensa nella quale tutta la nostra generazione è stata ed è in qualche modo dentro una volta si chiamava emergenza in realtà non è affatto un'emergenza anche se talvolta anche i titoli giornalistici tendono ancora a vendercela come tale e pensavo riflettevo anche sulla vocazione di questa tv di padre Pio TV che naturalmente ha il grande dovere il grande compito di comunicare la spiritualità i momenti di preghiera e tutto quello che in qualche modo si riferisce al nostro amato confratello San Pio ma allo stesso tempo la potenza di un mezzo di comunicazione è soprattutto quello anche di far pensare questo è una delle rubriche che tende proprio all'approfondimento questa è la parola importante la parola d'ordine perché un cristiano ovviamente e quindi anche un devoto di padre Pio non vive in un altro mondo non vive compiaciuto potremmo dire nelle sue preghiere in un contesto diciamo così che è fuori da questo mondo con tutte le sue problematiche potremmo dire con tutte le sue croci al contrario al contrario quindi questa storia ci ha dato la possibilità e ci dà la possibilità di pensare di riflettere e soprattutto questa ricerca di tanti elementi di tante cose che questo mondo ci offre e con tutte le sue contraddizioni e quindi la risposta non ce l'ha nessuno nessuno vuole in qualche modo né banalizzare né ridurre no? in qualche modo a degli slogan perché questo talvolta si fa in modo sbagliato noi come cristiani ma soprattutto come persone dedicate medite alla comunicazione vogliamo riflettere su questo come su tante altre problematiche che questo mondo ci offre e vogliamo avvicinarci a queste situazioni con coscienza con coscienza e credo che ecco ora parliamo al di là dei nostri ruoli anche la tua esperienza di giornalista tu sei nato come giornalista e raccontavi la politica anche nazionale in altri contesti televisivi ecco ma questa tua eredità anche culturale da laico da cristiano ecco non è stata messa da parte non hai dovuto rinunciare a quelle tue competenze alla tua intelligenza alla tua sensibilità quindi in Padre Pio TV ora vivi questo servizio perché ci aiuti ad approfondire accogliere ecco tutti gli elementi che servono perché poi dopo ognuno di noi nella sua parte sia responsabile e possa contribuire ad un mondo migliore e adesso da una riflessione su un tema importante a una riflessione su un altro tema importante già negli scorsi mesi e quindi ce ne siamo occupati anche intero obiettivo cominciavano a verificarsi in Italia i primi casi di utilizzo e di rischio di morte per una droga nuova una droga sintetica il fentenil abbiamo approfondito l'argomento con un docente universitario di farmacologia sentiamo questi farmaci appartengono si chiamano opioidi sintetici appartengono alla famiglia dei narcotici come l'eroina come la morfina perché la morfina l'eroina è a sua volta un derivato della morfina molto più potente e quest'ultimo appunto sono sintetici sono prodotti di laboratorio perché poco fa è stato accennato che si possono reperire anche in modo subdolo nelle farmacie perché nascono come farmaci per la cura del dolore nel 2001 sono stati introdotti anche in Italia con la cosiddetta legge sull'ospedale senza dolore cioè per quelle patologie molto gravi che comportavano dolori molto forti fu permesso di indicare con le cautele dei casi con tutte le opportunità del caso introdurre anche l'uso di questi farmaci negli Stati Uniti già si faceva da tempo io pubblicai un articolo a tempo fa su una rivista specializzata in cui parlai appunto dei cosiddetti painkiller cioè killer dei farmaci per il dolore che dal mondo diciamo farmaceutico poi potevano purtroppo come spesso succede andare nel mondo dell'uso improprio e quindi in Italia il problema non è ancora esplosivo come negli Stati Uniti sono circa 100.000 morti al giorno anche anni fa diciamo gente proveniente dal mondo dello spettacolo pensiamo a cantanti pop rock che sono morti perché appunto facendo un uso come iniziali farmaci antidolorifici dopodiché però si sono intossicati e quindi hanno anche perso la vita a questa famiglia di farmaci appartiene non soltanto il fentanil detto poco fa ma anche altri farmaci come l'ossicodone in Italia c'è la possibilità ancora di tenere sotto controllo ricordiamo che per esempio negli Stati Uniti strutture come l'ordine dei medici che c'è in Italia non ci sono quindi c'è un'attività un po' più liberistica diciamo che potrebbe portare a queste situazioni ma chiaramente sia con un uso improprio con ricettazioni false nelle farmacie sia purtroppo dal mondo del web si possono diciamo ottenere questi questi farmaci e utilizzarli e poi non ultimo se ne sta impossessando anche il mondo proprio della diciamo della produzione impropria con laboratori diciamo illegali che mettano in vendita queste sostanze ecco fra Nicola abbiamo poco tempo perché la prima parte sta per concludersi ma tu sei il responsabile della pastorale giovanile del santuario questo è un problema che riguarda i giovani e peraltro da quando abbiamo fatto questa intervista in Italia è aumentato il consumo di queste droghe sintetiche ecco come mai i giovani sono sempre più alla ricerca di confusione nella propria vita che comporta rischio di morte l'età della giovinezza è un'età molto difficile da vivere oggi forse molto più di ieri potremmo dire le tentazioni le situazioni alla quale tutti sono esposti quindi la fragilità è qualcosa che tocchiamo tutti con mano nelle nostre famiglie e quindi ecco questa cosa questi argomenti sono particolarmente sensibili nelle case di tutti i nostri anche telespettatori ma consentimi di aggiungere questa cosa mi riportavo mi veniva in mente vedendo ecco che i medici hanno nella vita della comunicazione dei messaggi nel mondo nel quale viviamo ecco anche Padre Pio TV la sua vocazione anche come quella di Padre Pio ci sono tante immagini che ci riportano Padre Pio in mezzo ai dottori Padre Pio che parla e i dottori che ascoltano stupiti cosa poteva dire un semplice frate a degli uomini di scienza una volta i medici ancora oggi in qualche modo sempre un po' intimoriscono credo ma una volta forse ancora di più certe figure ecco di dottori di medici erano proprio dei sacerdoti anche della scienza eppure ecco Padre Pio non si è sentito in difficoltà né tantomeno ecco in qualche modo si è lasciato intimorire ma ha voluto proprio prenderli a braccetto non solo nella loro vita spirituale ma davvero in qualche modo riportando e ricordando loro la vocazione che hanno enorme perché riportare il benessere riportare alla salute è un grande dono è una grande vocazione ecco e naturalmente Padre Pio ripeteva sempre anche noi lo ripeteremo all'infinito che ovviamente le conquiste della scienza della medicina non bastano se a quelle poi dopo non si affianca un sorriso prima di tutto e poi ecco la capacità di medesimarsi di camminare insieme di cogliere l'umanità prima ancora della difficoltà che quel corpo porta con sé rimanete con noi perché teleobiettivo adesso in questa puntata speciale smette di guardare al passato e darà uno sguardo al presente o a un passato più recente tra pochissimo Siamo arrivati alla seconda parte del nostro teleobiettivo speciale di questa domenica nel quale vogliamo parlare anche appunto del recente passato delle Paralimpiadi che hanno costituito oltre che un grande motivo di soddisfazione per la nostra Italia anche motivo di riflessione su tanti temi per questo approfittiamo anche della presenza in studio di Fran Nicola per collegarci con Raffaele Mignano giornalista sportivo molti avranno letto i suoi articoli anche sulla Gazzetta dello Sport al quale chiediamo volendo fare un bilancio delle Paralimpiadi che si sono appena concluse da giornalista sportivo che cosa vuoi condividere con i nostri telespettatori? Eccoci qua per condividere con tutti voi e con i telespettatori la gioia e l'entusiasmo evidentemente di un'edizione delle Paralimpiadi che mai prima d'ora avevano regalato tante soddisfazioni all'Italia e agli atleti partecipanti a questa manifestazione parliamo di una come dire un'equipe record di 141 componenti 70 donne 71 uomini più 26 atleti rispetto a Tokyo 2020 si sono confrontati in 17 specialità 51 atleti erano esordienti e mentre a Tokyo 2020 le medaglie il medagliere per l'Italia ha fatto registrare 69 medaglie adesso c'è stato il record di 71 medaglie a Parigi con ben 24 ori e non mi sembra che sia cosa da poco ecco ma al di là dell'aspetto diciamo quantitativo abbiamo riportato più medaglie rispetto alla precedente edizione delle Paralimpiadi che messaggio possiamo cogliere da queste Olimpiadi nelle quali si mettono in gioco persone che sfidano non soltanto gli altri gareggianti ma sfidano anche i propri limiti e danno un esempio di coraggio di tenacia di voglia di farcela esattamente diciamo che quello che viene fuori al di là di quello che sono le geste atletiche ma è soprattutto il messaggio che arriva da questi atleti da queste persone che si mettono in discussione per tirare fuori le qualità e come tutti noi dovremmo fare per tirare fuori le qualità che abbiamo dentro e che a volte abbiamo paura di tirarle fuori è solo così si può capire quanto sia importante e potente anche il messaggio che arriva da un tipo di manifestazione come questa perché è semplice basta capire che oltre quella cosiddetta normalità c'è anche comunque un mondo tutto da scoprire è arrivato un messaggio forte nel vedere i sorrisi le lacrime le sofferenze ma anche la gioia i volti di persone diversamente abili ma che di diverso non avevano assolutamente nulla Fra Nicola dal tuo punto di vista soprattutto per i giovani che messaggio può arrivare da una competizione di questo genere che ci ha premiati come nazione ma forse ci premia anche come persone che sono capaci di riflettere su quello che è stato un tipo di gara particolare Certo io credo che prima di tutto ecco è proprio l'impatto visivo molto forte nel senso che se un atleta fra virgolette normale che ha grazie a Dio la sua salute tutto quello che per certi versi è chiamato a superare una montagna magari che ne so il monte bianco per certi versi ecco coloro che vivono quest'altra situazione ne devono superare mille di montagne prima ancora ecco non è semplicemente quel obiettivo che poi alla fine diventa quasi ridicolo rispetto alla battaglia della vita che tutti questi attreti delle parolimpiadi alla fine affrontano la mia domanda è questa non so se c'è qualcuno che può rispondermi ma si sa quale attenzione i giovani di solito riservano a questa manifestazione rispetto alle olimpiadi che si sono celebrate qualche settimana prima qualche giorno prima insomma Raffaele beh sì diciamo che stavolta è stata anche una novità ma anche un altro segnale forte di un recupero verso diciamo una normalità il fatto che a queste paralimpiadi non sono stati presenti soltanto scuole o comunque persone invitate ma sono stati venduti regolarmente dei biglietti per l'accesso alle manifestazioni equiparandole alle olimpiadi diciamo tra virgolette che avevano preceduto di una quidicina di giorni sempre a Parigi e questo mi sembra una cosa veramente importante per testimoniare diciamo sull'ideale bilancia della vita di come le due cose viaggino parallelamente ma anche la stampa sportiva ha dedicato lo stesso spazio alle olimpiadi e alle paralimpiadi? beh forse lo stesso spazio forse no però è evidente che in questa edizione c'è stato un cambio di passo televisioni mass media che siano carta stampata social e quant'altro hanno dedicato tantissimo spazio nelle dirette nelle varie spiegolature nel dietro le quinte ma soprattutto nel analizzare nell'andare dentro ai profili dei personaggi che hanno caratterizzato questa parola l'alimpiadi come non dimenticare la caduta della centometrista Ambra Sabatini a un passo dalla vittoria dell'oro che purtroppo poi rovinosamente caduta a un passo dal cielo se vogliamo a un passo dal traguardo e l'oro della sua connazionale della connazionale Caironi ha compensato in qualche modo ma anche quella è una storia di vita perché dopo la Ambra Sabatini chiaramente ha pianto non per l'oro perso ma perché aveva impedito all'altra sua compagno di squadra la contraffatto di arrivare sconda esatto proprio questa conseguenza ha rivelato ancora di più la bellezza dell'umanità e quella diciamo così un po' l'atleta va ancora di più cioè l'umanità supera la bellezza dell'atleta il suo valore insomma sembra che nelle Paralimpiadi l'agonismo sia superato dall'umanità cosa che magari nelle competizioni ordinarie nelle Olimpiadi nei campionati del mondo nei campionati europei di calcio invece non si vede lì c'è più un agonismo sfrenato certe volte non si passa la palla a chi si è smarcato dagli avversari per tentare di fare gol e mettersi la medaglia magari in una posizione sbagliata sbagliando il gol perché c'è una competizione più esasperata o sbaglio no ma questo è stato un momento veramente di grande di grande solidarietà tra atleti che hanno fatto gruppo si sono aiutati l'un l'altro ma poi abbiamo visto i molti felici anche dei perdenti nelle gare e abbiamo visto diciamo atleti anche scansonati basti pensare al nostro Tapia che dopo aver vinto l'oro nel lancio del peso si è cimentato in un io vagabondo cantandolo a tutto il mondo no ad esempio oppure il il romano Ganeshorti che adesso non so se lo pronuncio bene ma che è stato di una simpatia enorme nel raccontare che ha tre record nella stessa manifestazione nel lancio nel lancio del disco e per lui è la cosa più normale la cosa più semplice la normalità bravo è la normalità è questo che mi ha colpito la normalità di individui che hanno saputo dare esempio oltre lo sport cioè nella vita bene il nostro tempo purtroppo veramente è fuggito è corso velocemente ringraziamo Raffaele Mignano per averci messo a fuoco sotto il profilo soprattutto umano le recenti Paralimpiadi grazie a Fra Nicola per averci accompagnato nel passato recente di Teleobiettivo e anche in quello più meno recente anzi più recente rispetto all'altro delle Paralimpiadi grazie a voi amici telespettatori per averci ancora una volta scelto per approfondire temi di attualità ricordandovi che Teleobiettivo tornerà dopo la festa di Padre Pio quindi dopo il 23 settembre ogni giovedì alle 10.30 del mattino grazie a tutti 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 grazie a tutti